Noi stiamo sulle palle alle amiche di tua moglie, sono false, quando arrivano in casa, ciao, come stai? Bene, ho saputo che non stavi bene, adesso sto bene. Sono cattive. Mia moglie ha delle amiche che si sono avvicinate lei per renderle più piena la giornata, lottano contro dei problemi dell'umanità, sembra che tutte le cose siano colpa mia. Tipo alla notte, mentre il mio uomo mi dice, vai di là a spegnere il puntino rosso della televisione. Un'altra le ha proposto come risparmio energetico di tenere gli alimenti fuori dal frigorifero. Io ho detto, va bene, sono d'accordo. E dove li teniamo? In balcone, giusto? Io abito al primo piano, al mattino tiro sulla tapparella e pieno di equadoregni che mi mangiano prosciutto frutto. Li senti per portare al tavolino, oh la Pucci, una cervezza, por favore!